Rapinarono una gioielleria di bitetto sequestrando la proprietaria. Il gruppo, composto da tre individui, è stato sgominato questa mattina a Bari dai carabinieri della Compagnia di Modugno. Si tratta dei baresi Riccardo Antonio Corsini di 45 anni, Nicola Fanelli di 33 anni e Nicola Angiola di 47, accusati di sequestro di persona, porto illegale di armi e rapina. Sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I fatti risalgono al 25 settembre scorso. I tre faccero eruzione in una gioielleria di bitetto armati di pistola. Dopo aver legato ed imbavagliato la figlia del titolare sotto la minaccia dell'arma, la costrinsero a chiudersi nel bagno. Dopo aver rubato i gioielli nella casaforte, si detterò la fuga. Le indagini di carabinieri hanno permesso di risalire ai tre malviventi, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali della zona, prima e dopo la rapina. Utili all'individuazione dei tre sono state anche le testimonianze raccolte sul posto.